Amici! Un sogno stamattina è unico e solo Unico e solo Mi hanno praticamente pegato Lo volete sbiato in terra vicino a me Dopo che ho fatto tutti questi video E ho fatto i video sopra l'uragano Perché non fai qualcosa di utile? E sei mattina Qualche cosa di utile Insomma, volevo che io praticamente Vi spiego come si fanno le impanate Le impanate sono la tipica pietanza Ragusana Pasquale Come si fanno? Che cosa sono le impanate? Come si fanno? Niente, qua abbiamo Il condimento, tacchino Pollo e patate Un tacchino non è altro che io Ora noi si fanno pure con l'agnello Noi però, siccome siamo animalisti Abbiamo preferito prendere Un tacchino Un squaiammo Insomma, l'abbè, l'abbiamo fatto perché era un tacchino Un gerbitto, una nave, quindi Non c'è necessario battendo la minchia Però si fa anche con l'agnello Attenzione Pollo e patate Tacchino Questo è nel condimento Fra poco vi faremo vedere come si fa La panificazione, diciamo, dell'impanata Ma chi è che sta impanata? Lo scoprirete all'ultima puntata Ma lo vedete proprio mangiare Questo è il mio obiettivo Voi, anche all'estero Germanesi, tedeschi Gente che è andata a vivere all'estero Riviverà quei momenti del tutto Del procedimento Di come se fanno Impanate Grazie Grazie